Metto le mani avanti, ai 10.000 euro dubito che ci si arrivi saranno più 6.500-7.000, ma 10.000 fa più fico e sono comunque tanti soldi. Un like uguale un centesimo per il tier squattrinato. E rieccoci back, bentornati sul mio canale. Sono passate due settimane dall'ultimo video che ho caricato e lo so che non siete qui per sentirmi parlare di questo, quindi sarò brevissimo. Ero stanco, avevo bisogno di una pausa e me la sono presa. Ma da oggi si ricomincia a fare sul serio, a partire da questo video tornerò a caricare a giorni alterni, quindi un giorno sì e un giorno no. E ho deciso di iniziare mostrandovi la mia postazione aggiornata e incredibilmente migliorata con un pezzo da 90. Il mio nuovo pc da 3.000 euro. Vi giuro che è un bestione, lo sto usando da circa 3 settimane e con il nuovo pc posso fare qualsiasi cosa. Quasi qualsiasi cosa, in realtà non ci posso andare in bicicletta. PC che non sarebbe mai potuto esistere se non fosse stato per il contributo di XPG Adata e MSI e soprattutto per l'incredibile aiuto del mago di DOS. Mago che conosceremo tra poco e i cui link potete trovare all'interno della descrizione. Infatti prima di mostrarvi il montaggio del pc avvenuto in live sul mio canale Twitch, canale dove tra l'altro sono in live tutte quante le sere tranne il sabato a partire dalle ore 7, vi volevo parlare di tutto quello che mi circonda e mi permette di fare questo lavoro. Direi di cominciare da tutte quelle cose che sono considerate generiche ma allo stesso tempo sono molto importanti. Come ad esempio la scrivania. La scrivania che ho preso all'IKEA è la più larga possibile perché ho bisogno di tanto spazio e che tuttavia ha un piccolissimo problema, è fatta di carta. Quindi qualora doveste attaccare la scrivania a un morsetto come questo, vi consiglio di prendere dei pezzi di legno o comunque un qualcosa che possa rinforzare la scrivania e creare più spessore, altrimenti si distrugge come a me. Dopodiché abbiamo una classica sedia d'ufficio presa direttamente da Amazon e tra parentesi tutti quanti gli oggetti comprati da Amazon li trovate allincati in descrizione. Ma il motivo per cui non ho una vera e propria sedia da gaming è che le gatte me la distruggerebbero. Questa invece è fatta di tessuto retato che le gatte non possono distruggere, quindi POG. E con tutte le sedie che ho avuto a livello di comodità praticamente non cambia nulla. Dopodiché abbiamo i pannelli fonoassorbenti che ricoprono gran parte del mio ufficio e per quanto facciano bene il loro lavoro insonorizzando la mia stanza, non potendoli attaccare con il silicone continuano a cadere come in questa clip. POG. Ok. No, questo da quando cade? Tu da quando ca... Ma perché la vita è così? Quindi per l'amor di Dio attaccateli col silicone se potete, altrimenti è un disastro. Per quello che riguarda l'illuminazione invece possiedo due cose. Il LED RGB della Yokoi che vedete sullo sfondo, che utilizzo principalmente per staccarmi dallo sfondo, altrimenti quando ho la maglia nera sembro una testa volante. Mentre per l'illuminazione frontale utilizzo una luce anulare della Newer appesa al muro con un braccio della Newer. Braccio che ho comprato più di un anno fa quando mi sono trasferito in questa casa ma che ancora non avevo mai appeso. E adesso che è lì appesa al soffitto risparmio molto più spazio sulla scrivania. Ma passiamo quindi alle varie periferiche che utilizzo per lavorare. L'oggetto che vedete più spesso sono senza dubbio le mie cuffie. Le cuffie che utilizzo sono le Razer Electra versione 2 e non le ho scelte per un motivo particolare, volevo delle cuffie con dei dettagli verdi ed erano quelle che esteticamente mi piacevano di più. Tastiere e mouse invece sono gli stessi da un paio d'anni, rispettivamente Trust GXT Kada e Trust GXT Laban sono così abituato ad utilizzarli che se si dovessero rompere li ricomprerei uguali. Anche il microfono è della Trust ed è un GXT Emita e questa è l'unica periferica che intendo cambiare per fare il salto di qualità definitivo ma per quello dovrò aspettare la fine dell'anno. Dopodiché ho tre schermi della AOC che per il prezzo che hanno sono davvero ottimi e vengono sorretti da uno stand che pesa come il piombo arricchito. Ma anche questo fortunatamente mi permette di risparmiare spazio sulla scrivania. La webcam che utilizzo invece non è una webcam, bensì una macchina fotografica. Più precisamente una Sony Alpha 5100 con l'obiettivo standard. Senza ombra di dubbio esistono dei modelli migliori ma questa di fatto l'avevo nell'armadio a prendere polvere quindi piuttosto che lasciarla lì ho deciso di metterla a buon uso. La fotocamera è sorretta da un normalissimo piedistallo da 20€ circa che tuttavia non è abbastanza alto e quindi viene boostato da due testi universitari. Mi permettete di contare anche questi due libri? Altrimenti non ci arrivo mai ai 10.000€. Per utilizzare la Sony Alpha 5100 come webcam l'ho collegata al computer tramite l'Elgato Camlink 4K. Non chiedetemi come funziona a livello tecnico perché sono un caprone e non ne so nulla. L'unica cosa che so è che mi permette di avere una qualità video incredibilmente maggiore rispetto a quella di qualsiasi webcam io abbia mai posseduto. Sempre per quello che riguarda i prodotti Elgato attualmente possiedo uno stream deck che soprattutto per le live è davvero essenziale e un game capture HD60 Pro che mi permette di registrare e streammare tutti quanti i gameplay da console. La Wii, la Wii U, la PlayStation 4 e la Nintendo Switch. Queste sono attualmente le console che possiedo ma funziona anche con tutte quante le altre. E ora splendori è finalmente arrivato il pezzo forte, quello che tutti voi stavate aspettando. Il mio nuovo PC da 3.000€. PC che come ho già accennato è stato costruito dal mago di DOS in live sul mio canale Twitch. Pertanto passiamo la parola al mago e il tier del passato in modo tale che possano mostrarvi tutto quanto il fantastico processo. E sarei dovuto tecnicamente andare nel suo negozio per costruire insieme di persona il PC ma, causa quarantena, sono qua a casa. E siccome il PC mi serve lo stesso, ci siamo arrangiati in questa maniera. Lo costruirà lui, ci guiderà passo passo e ci spiegherà cosa sta facendo, perché lo sta facendo in quel modo. A cosa serve quel pezzo, suppongo ve lo spieghi anche. Buonasera. Buonasera, buon uomo. Buonasera, come stiamo? Bene, bene, bene. Tu, come stai? Molto bene, grazie. Tearless hi in chat per il buon mago, salutatelo. E splendori intervengo in fase di montaggio per ricordarvi che qualora voleste acquistare un PC, che si tratti della mia configurazione o che si tratti di una configurazione custom, potete contattare il mago di Dostra ammite uno dei link che trovate in descrizione, che sia il suo sito, che sia il suo profilo Instagram o che sia il suo profilo Facebook. Mi sono trovato davvero benissimo a lavorare con lui, pertanto qualora aveste bisogno di un nuovo PC non esitate a contattarlo, ve lo consiglio caldamente. Praticamente, abbiamo deciso di fare questo PC, è un PC che servirà un po' per tutto. Completa a 360 gradi, è una macchina molto potente, perché comunque abbiamo fatto una scelta di componenti. Esatto, è importante, è importante. Bastante importante. Ne avevo bisogno perché ormai qua il PC che c'è alla mia sinistra sta perdendo colpi, avevo bisogno di fare l'upgrade. Tu hai già fatto vedere qualcosa, hai già fatto vedere, hai già spiegato. Avevo accennato alla scheda video perché mi era stata chiesta da mille persone, ovviamente quando avevo detto che questo venerdì saremmo andati a buildare il PC, la domanda più comune è stata quale sarà la scheda video, che è una delle parti che interessano di più. Nessuno ti chiede del povero hard disk. Esatto, il povero hard disk che non se lo considera nessuno. Guarda, tutta quanta arcobalenosa, già vedo un po' di arcobalini. Oh yes, 2080. 2080 da super, così vi può portare Minecraft con l'RTX. Yes, Minecraft con l'RTX, poggers in chat. Poi ovviamente per restare in tema arcobaleni, 32 giga di RAM, quattro banchi, 32 giga di RAM a 3200 MHz di adatta XPG, un tera di SSD, non è RGB perché verrà montato sulla scheda madre in una posizione nascosta, quindi non verrà RGB. Ho già visto più o meno come verrà, perché mi hai fatto vedere un computer di simile, è già abbastanza luminoso. Abbiamo scelto un secondo SSD perché su questo hard disk verranno archiviati solo i video finiti, quindi servirà proprio da mero archivio. Esatto. E tra l'altro è un 2 tera, tra virgolette provvisorio, perché poi verrà ampliato con un 6 tera più avanti. Ovviamente bisogna alimentare il tutto, no? Eh certo, ma che bestia che è. Core Reactor 750 Watt 80 plus gold. È un alimentatore spaventoso. Qui ci fai veramente di tutto. Ottimo, buono sapersi. Se devi scaldare devi anche raffreddare, no? Eh giù, oh yes, la parte più bella. Levante 240, 240 mm, doppia ventola RGB. È un ottimo dissipatore, ancora poco conosciuto, perché sia questo che il Core Reactor sono usciti pochi mesi fa e sono stati poco pubblicizzati in questo momento, ma ha la sua porca figura. Assolutamente. Vuoi che ti dica una cosa che ti farà del male? Io come dissipatore ho quello della Intel. Lo stock che mi è andato con il processore. Allora, mancano tre cose. Una è troppo grossa per essere messa su questo tavolo adesso, la vedrete dopo. Eccolo lì in basso. Molto elegante, molto tranquillo, non è super tamarro. Visto così non lo è, visto così non lo è. Tutti spenti sono tutti buoni, no? Esatto. Poi andiamo con la nostra scheda madre, ultimo pezzo. X570 Gaming Edge Wi-Fi. È una scheda madre che consente di fare un po' di tutto. Overclock, ha il Wi-Fi integrato, grande espandibilità e tutto il resto. E poi c'è il pezzo forte. E il pezzo forte, che è davvero forte. Processore Ryzen. Ah, non era il Pentium 3 che avevi accennato ieri sera? No. Peccato. Ryzen 9 39X. Ci siamo, no? Decisamente ci siamo, guarda. Rispetto al mio muletto qua, che ormai è vecchio decrepito, sarà un gran bel saltone con dei gran bei componenti. Secondo me ti diverti. Oh, decisamente. Guarda, io non vedo l'ora. Ho già pianificato una serie di cose che posso fare. Io ringrazio ancora XPG Adatta e MSI, che hanno aiutato fornendo alcuni pezzi, però mi sembra che sia intorno ai 3.000, il costo totale. Esatto. A memoria eravamo intorno a quella cifra lì. Più o meno sì, più o meno sì. Sì, sono tanti soldi. Shocker diciamo. Ma raga, ripeto, è un PC molto potente. Stiamo parlando di top di gamma, praticamente. Io lo utilizzo per lavoro. Questo PC mi durerà anni. Lo sfrutterò giorno dopo giorno e gli farò fare un lavoro ignobile. Se voi prendete un PC del genere adesso, vi dura... Hai voglia. È un investimento. Sono soldi ben spesi. Questo puntino qua deve andare in corrispondenza di questo puntino che c'è qua in alto. Quindi lo appoggiate sopra senza fare nessuna pressione. È già entrato. E abbassate la levetta. Fatto. Processore montato. Easy. Adesso possiamo andare a montare il nostro SSD. Avremmo potuto metterlo anche qua sotto. C'è davanti poi la scheda video perché va montata qua. Ci vede tutto. Poi qua ti devi mettere la... Sì, l'elgato, esatto. Quindi sarebbe stato un po' incastrato. Non si sarebbe visto niente più che altro del discorso anche RGB e cose varie. Allora, andiamo a mettere questa vite. Risposte stupide a parte. Stai lì a chiedere regge questo, regge quell'altro. Ad oggi non c'è nulla che questo PC non regga. Non andrò neanche a streamare tutto quanto a ultra perché comunque vuole cercare di preservarlo un attimino. Ah, puoi fare tutto quello che vuoi. Potrei farlo tecnicamente ma lì è una questione mia. Però uno volendo può ucciderlo quanto gli pare. Allora, abbiamo montato il nostro SSD che è finito sotto questa copertura. Possiamo montare le RAM. Generalmente vengono montate in dual channel due banchi e quindi slot 2 e slot 4 che sono quelli che vi rober. Ma siccome noi ne abbiamo 4 Quindi li abbiamo tutti e 4, esatto. Semplicemente. Banchi da 8 giga a 3200 megahertz. Non è la frequenza più veloce che possiamo scegliere però è una delle frequenze più stabili. Tia non è uno smanettone non vuole star lì a diventare matto con le RAM. Infatti io sto annuendo e basta perché sull'ì che dico sì, vero sono d'accordo. Perché sono stati scelti 4 banchi da 8 giga piuttosto che 2 da 16? Per problemi di disponibilità. Ah, ok. Pensavo ci fosse una ragione più tecnica. Ok, come l'ho detto. Allora, adesso possiamo andare a inserire la scheda madre all'interno del case. Va bene. C'è un particolare che se siete stati attenti lo vedete anzi, due particolari. Il primo sono i distanziali perché questo case monta già i distanziali appena uscito dalla scatola. E poi non ho messo la mascherina perché è già presente questa è avvitata. Per cui non basta fare altro che appoggiarla apposto. Questa è centrata avvitiamo e ci siamo. Vedete quel casino? Ecco, non guardatelo. Quale casino? Ma non c'è niente. Quello. Per due cartine ma sì. Quello. Quello. Ah, quello? Era coperto dal case non si vedeva non ti preoccupare. Aspettiamo ancora un po' a fare il cablaggio perché adesso andiamo a montare il dissipatore così poi montiamo il nostro alimentatore e andiamo a cablare tutto. Perfetto. Andrà montato così. Quindi attaccato alla parte alta del case. Esatto, lo montiamo alla parte alta. Quindi le ventole dovranno uscire con i cavi da questa parte in modo che quando lo andiamo a montare non abbiamo i cavi che vengono giù qua davanti ma ce li abbiamo che passano di dietro. Che è una cosa strepitosa. Ci siamo. Comincia a prendere forma comincia a essere abbastanza sobrio. Perché è spento. Potrei metterla su così e andandola a bloccare. Allora intanto che noi stiamo facendo i coglioni. Sì. Qui è quasi pronto. Questo è già cablato eh. Ho già collegato i cavi. Ah, l'hai fatto dietro sì. Adesso possiamo andare a montare l'alimentatore che lo montiamo qua sotto. E poi poi siamo pronti per fare tutto il cablaggio nella parte posteriore e lì insomma fai un po' di show tu Comunque è bello grande il case. Ora mi sa che è più o meno grande come quello che ho adesso. Più spazio per pinta. Sì raga dai pinta la gatta la faccio entrare la faccio appoggiare sopra allo slot per l'alimentatore. La faccio dormire lì. La faccio sicuramente felice. I gatti a questo qua non li faccio avvicinare mai. Teniamo qua fino alle 4 del mattino a vedere un cable management. Sembra divertente. Ci siamo eh. Ci siamo? Siamo. Eh sì ci siamo ci siamo. È arrivato il momento. Allora vedi quanto è grosso il case. Sì. Bestia. Bestia. Una sberla di scheda video. È enorme. Aspettiamo soltanto di vederlo acceso ormai. Signori vi ricordo che a casa del mago è buio praticamente. L'unica luce che vedete in questo momento è quella che proviene dai suoi schermi. Andiamo? Vada vada. Oh yes. Madonna guarda che quanta luce che è partita. Oh yes. Adesso ovviamente è lo schema di colori standard della scheda madre quindi c'è il respiro. Poi è tutto quanto settabile immagino vero? Va benissimo. Grazie mille. Grazie a tutti quelli che ci sono stati stasera. Vi ricordo che è anche un negozio a Parma se siete di Parma e dintorni se siete interessati in 20 cavo. E ricordiamo il 5% di sconto per i premi 10 ordini. Esatto. Ah giusto. Giusto. Non l'avevamo neanche detto mi sa. Chi viene dalla live di TR lo comunica e i premi 10 ordini 5% di sconto. Esattamente. E splendori come vi dicevo all'inizio questo pc è davvero una bestia. Non solo ha facilitato e velocizato il mio lavoro ma mi permette anche di fare cose che prima non potevo fare con quello vecchio. Ringrazio ancora XPG Adata MSI e soprattutto il mago di DOS. Se volete acquistare un pc con la stessa configurazione o volete farvene fare uno custom dal mago trovate tutti quanti i link a cui potete contattarlo in descrizione. Grazie per aver guardato ci vediamo in live alle 7. Grazie per aver guardato